ragazzi sì ciao 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 cosa state facendo stiamo giocando stiamo giocando a due mamme due mamme sì sì wow ecco come si chiama il tuo nome mia stella però c'è qualcosa dentro si chiama stella è una femmina il mio amore si chiama stella si chiama è ancora piccola si chiama è una femmina si chiama come si chiama si chiama si chiama si chiama come si chiama hai dimenticato il suo nome si chiama si chiama si chiama ecco ciao emma ma dove sono i vestiti di emma sì però sono grandi quelli i vestiti anche per la mia bimba è grande ho capito ragazzi ma io volevo dire una cosa cosa oggi ho una super challenge per voi oh no vuoi saperla veramente sì la challenge di oggi si chiama pausa challenge per 24 ore di ma sapete in cosa consiste questa challenge di cosa di cosa allora sarò io a frizzarvi per 24 ore in qualsiasi momento della giornata mamma mia che cosa allora quando io dirò frizz voi dovrete rimanere immobili fino a frizzarvi fino a frizzarvi fino a frizzarvi fino a quando non avvi sfriggio così e non mi muovere è così è così è così siamo così e siamo frizzarvi sì giusto così se vi muovete avete perso e chi perderà dovrà mangiare delle cose disgustose come sempre io prenderò il ciccolato no 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 ma quella non è una cosa disgustosa è una cosa molto molto buona forse cipolla il piccante il piccante il piccante oh no io non voglio peperoncino forse il peperoncino piccante forse accetto accetto ma mi piace accetto ti piace sicura no 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 mi piace il peperone mi piace il peperone mi piace peperone anche a me mi piace il peperone il peperone è piccante no il peperoncino il peperoncino è quello piccante il peperoncino è quello semplice che lo compriamo dal mercato è buono il peperoncino quello verde lo mangia lei si 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 li mangia allora siete pronte si si oppure non volete accettare questa challenge io sono sicurissima che lo vuole fare la vuoi fare anche tu vanessa la vuoi fare subito l'acqua 3 2 1 comincia la challenge io devo fare un peperoncino freeze eccoci qua ragazzi ma io non vi ho detto vi farò tantissimi scherzi per prima cosa comincerò ho questi occhiali eccoci qua state immobili così bravissime mi sto muovendo un pochino ma no non ti stai non ti devi muovere se perdi questa challenge ma mi sto muovendo un pochino alla fine del video ragazzi dovrete scrivere giù nei commenti chi ha vinto questa challenge potete parlare ehi ciccicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic è vero è vero è vero è vero è vero è vero io vi devo dire stop e dopo vi dovete muovere stop cosa volete fare volete ballare sì perché ha detto stop frizz perso avete perso anche questa volta non è vero no non è vero sto scherzando stop vi ho fatto sbagliare io io voglio mettere gli occhiali di nuovo ma ti sta benissimo con questi occhiali guardami oh 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 ma ho detto stop ti puoi muovere signorina Perché non voglio perdere Ma no Non si devi muovere Continuamente Fate delle cose Fate quello che avete fatto finora Dopo potete uscire fuori Sì Al palco Che bello Ok bimbe Vado a Preparare il pranzo Torno fra poco Intanto Per non fare Casini qua in stanza Freeze Ci vediamo fra Mezz'ora State immobili Ok Ragazzi vediamo Vediamo se la Erika È immobile Ma tu Vanessa guarda che hai perso Sei andata in bagno Dopo sei tornata Puoi fare quello che vuoi È tanto Eh sì Stop Dai poverina Sei stata un'ora qua Immobile Direi che hai vinto il tuo E Vanessa ha perso Guarda Vanessa Guarda Devi imparare A fare le challenge Bene Sì ma quando mi fa male il braccio Sì ma quando sarò grande Io Ti afferma Eh no Eh io Non stavo muovendo Come sarò grande Sì ma devi imparare A fare le challenge Bene Io voglio fare i compiti Perché non ti mangiare le cose disgustose A te non ti piacciono le cose disgustose Eh sì Lo sai che Il piccante a te non ti piace No Ma quando lo vendete un bacco Lo sai che io una volta ho assaggiato il piccante Lo so Col pane E non è buffuto anche l'acqua Vero Sì 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 Anche la Vanessa ha assaggiato il piccante Sì E non mi è piaciuto Sì a me mi è piaciuto A me mi è piaciuto Eh sì Sì ma quando è solo grande Ma non mi piaceva Mamma Mamma Ma quando sono grande Dai che Ma farò i compiti Bene farò i compiti Ma anche i minuti passano troppo veloci Cosa I minuti Vediamo Cominciare Ok Mi piace Mi piace sì Bisogna fare Non mi è piaciuto Ma cosa No Sono immobile Anche io No Vanessa No Vanessa Vanessa Sfriggami Vanessa Sì Davi 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 Non mi lascio più No Sfriggami Vanessa Sfriggami Vanessa Sfriggami Vanessa No 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 Quello non funziona Guarda che funziona solo questo Sì No 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 Quello non funziona Sfriggami Vanessa No Vanessa Ho detto Free Stai ferma Stai immobile Ecco Così Tu mi hai capito Devi stare immobile Immobile Ma sai Io sono bravissima Sei bravissima Mamma Che rossetto Sì Eccoci qua Te lo metto Vanesa Vanesa Stai ferma Vanesa Brilano Fatto Bella Bella Brilano Anche a te Vanesa Te lo metto Il rossetto Vieni Vanesa Guardami Anche un po' Qua Te l'ho messo Eccoci Stop Hai perso anche tu Questa volta Perché ti sei alzata Questa volta Con guerra piccola No questa volta Ho perso Anche la Ma non devo Prendere piccante Perché Non ho perso Così tante volte Vero Vero Anche non ho perso Tante volte Ragazze Siamo al parco Sì Un pochino Ma guardate Ragazze Che vi Friggerò Tante Tante Volte Preparatevi Io friggerò Occhiali Perché? Tanti Chi Stare Occhiali 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 Frist Fri Prinna Aiuto Stop Frit Maina Det minuto Lenina Mi Pani Aiuto stop vieni qua stop vieni qua Erika non mi posso muovere sto registrando vieni qua Erika Erika vieni qua venite qua subito stop no è mio dammelo non mi posso muovere adesso no ma io non dammelo dammelo no aiuto ragazzi mi dovete aiutare guardate cosa mi sta facendo l'Erika io ti aiuto aiutami portami aiuto giuladro no Erika stop porta Erika porta porta vieni qua Erika vieni qua guarda che al parco non si va sei una furbacchiona stop freeze no non è giusto freeze te l'ho preso freeze anche io voglio no 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 perché l'hai preso perché l'hai preso perché l'hai preso mi posso muovere no 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 avete perso vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni 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 qua è vicino a me mi sta facendo soledica vieni Erika non si va al parco basta si ma non si va giochiamo così freeze 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 stop andiamo andiamo dai prendetevi la giacca le scarpe usciamo fuori andiamo 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 dai ragazzi preparatevi guardate ho preso anche il telecomando e vi posso frizzare vi posso frizzare state molto molto bene ma io vado senza artelle oggi ho visto ho visto state pronte e preparatevi perché mi divertirò un sacco oggi al parco con voi andiamo dai 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 vai 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 ma guardate che brava è è la Erika ma lei sa dov'è è l'altalena eccola cosa fa Erika è il mio amico è freeze vediamo dov'è eccola eccola stai bene lì sì bene ti diverti dai io in 10 stop perché ma guarda che si sta bene lì non c'è vento stop ci riesci o hai bisogno d'aiuto mamma guarda me wow ma va così veloce la Vanessa mamma mia che ho ci riesci no dai prova prova no mamma hai paura sì vediamo vediamo freeze adesso stai lì per 5 minuti ciao ci vediamo fra poco mi dici stop no non ti dico stop cosa c'è Vanessa gli occhiali c'è gli occhiali ti prendo gli occhiali sì ma ti devi fermare mamma no dai gli occhiali ciao guardate là Erika dov'è arrivo Vanessa arrivo cosa c'è vuoi andare giù sì stop e devi piangere per questo non è giusto cosa non è giusto cosa vai su tavola riposati io andare su una banchina a riposare sì perché perché vi sto facendo no in quello tavolo vi sto friggiando tante volte per quello sì posso mangiare anch'io uno no ragazzi no dove vai Erika Erika aiuto no sono rimasta immobile no Erika Erika dammi no dammi il telecomando Erika sì Erika Erika vanessa è lì vieni Erika ragazze andiamo prendete le vostre biciclette guardate che andiamo guardate che non vi friggio più andiamo andiamo che ho tanto tanto freddo vuoi rimanere al parco no 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 va bene ci vediamo a casa allora ciao Vanessa arriva arriva la Erika arriva la Erika eccola qua ma io ho acqua cosa state facendo io ho acqua sto pensando a una cosa molto molto divertente io ho questi due cosa questi due che cosa i colori sì Erika dai Erika dai Vanessa è arrivata Erika Erika guarda è arrivata la Erika e ragazzi vuole bere l'acqua ecco qua vuole bere acqua frizz mamma mia guarda che l'acqua va giù stop cosa hai fatto mamma cosa hai fatto Erika mamma ma non è colpa mia se l'acqua è andata giù cosa stai facendo Erika per favore vai a portare qualcosa e pulisci tutta quest'acqua e anche tu signorina non stare così vai 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 a portare la carta subito no non è la colpa mia no perché dici che è la colpa mia perché mi hai messo in mobile eh ma non c'entra niente ti dovevi fermare signorina sì ma ma cosa perché lo ferma secondo voi ragazzi chi ha avuto questa challenge io io chi mi darai una cosa disgustosa il limone si mangia si mangia il limone Vanessa no sì 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 facciamo così ragazzi scrivete giù nei commenti secondo voi chi ha vinto questa challenge e nel prossimo video quella che ha perso dovrà mangiare una cosa disgustosa secondo me siete state tutte e due bravi no mi sta che mi si è perso amiche per sempre ragazzi speriamo che questa challenge vi sia piaciuta e non dimenticatevi iscrivervi al nostro canale e di mettere tanti like fatela ciao ciao